Che cos'è davvero raro? Per gli italiani al primo posto c'è l'amicizia incondizionata, seguita dall'amore vero e dall'agire senza secondi fini. È quanto emerge dall'indagine condotta da Ipsos per la seconda edizione di Rarementi, l'evento organizzato da Corriere della Sera Buone Notizie e da Sobi, per raccontare storie di ordinarie rarità attraverso varie testimonianze, come quella dell'atleta paralimpico Onetapia, ed evidenziare come il valore della rarità sia più diffuso di quanto si pensi. Tutti noi, le persone che hanno il problema fisico, loro esplorano, cercano di andare oltre il problema e quindi le persone rare, le persone così sono quelle persone che comunque triunfano, sono le persone che fanno storia, sono le persone che raggiungono un obiettivo, sono le persone che escono della normalità. Raro ha una connotazione positiva nel senso che si pensa che sia qualcosa di unico, di difficile da trovare, di prezioso. Ha una connotazione positiva anche perché ha una valenza che potremmo chiamare aspirazionale, cioè il raro è qualcosa che si cerca, che si vorrebbe trovare ma che si fa fatica a trovare.